Ciao a tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Briga allora ragazzi innanzitutto mi scuso se nel video di ieri insomma l'audio non è stato dei migliori però ho cercato di fare il possibile visto che ho considerato che non potevo insomma mettermi a parlare ad alta voce in un luogo pubblico oggi ho cercato di chiudermi qua diciamo nella mia stanza e in questo caso posso continuare insomma ad alzare la voce come a sto punto preferite perché poi molte volte mi dite era troppo alto il volume non gridare troppo a volte mi dite però troppo baffo in effetti ieri non si sentiva un gran che ed è una cosa che sinceramente non sopporto neanche io durante i video durante le cose perché uno magari vuole stare ad ascoltare se non si sente possa fastidiarci quindi questo è quanto badiamo al sodo ragazzi adesso vi do delle informazioni molto ma molto importanti nell'incontro appena venuto e aggiungerei appena terminato appena terminato durato all'incirca un'ora e mezza tra i dirigenti del Milan Maldini e Massara e il rappresentante in questo caso del Bruges si è parlato insomma ovviamente di Charles de Catteler ma adesso entriamo diciamo nella situazione ovviamente ragazzi se volete sapere perfettamente tutte queste notizie di calcio mercato dove sono in questo momento i dirigenti del Milan dove si stanno incontrando eccetera eccetera dovete semplicemente scaricare l'app di OneFootball sotto in descrizione perché ragazzi ovviamente scaricando l'app di OneFootball avete la possibilità di sapere tutto in tempo reale app sempre aggiornata su tutto quello che avviene assolutamente gratuita facili da usare scaricate l'app di OneFootball in descrizione e non ve ne pentirete ovviamente cari amici che cosa vi vengo a dire a noi diciamo interessa non tanto sapere diciamo come è andata la trattativa di che cosa si è parlato se si sono fatti passi in avanti o passo indietro eccetera eccetera a noi interessa sapere che cosa hanno mangiato che cosa hanno mangiato nell'incontro di Lugano, Ricky Massara, Paolo Maldini e Vincent Menard il rappresentante della dirigenza in questo caso del Bruges allora Paolo Maldini ha preferito andare con una paillard diciamo ben cotta con una brunoise di pomodorini su un letto di rucola diciamo quindi si è mantenuto leggero su un secondo mentre per quanto riguarda Ricky Massara, Ricky Massara è andato più sul pesce è andato più sul pesce, ha preferito un pesce di lago perché ovviamente la Svizzera non è che si trova molto facilmente diciamo pesci ma si è trovato un pesce di lago non so esattamente magari nel prossimo video vi parlerò di che pesce ha scelto Ricky Massara quindi anche lui molto leggero accompagnato con un vinello bianco frizzantino giusto per sgrassare un po' mentre per quanto riguarda il nostro amico di Belga a quanto pare lui invece ha scelto un menù più mediterraneo a quanto pare ha preso uno spaghettone di gragnano uno spaghettone di gragnano con un pomodorino datterino giallo e sopra una burratina andriese quindi delle nostre parti con una granella di pistacchio sopra quindi è questo diciamo il pranzo ma c'è cazzo nel fracaneo di un pranzo cioè noi spesso e volentieri ma vi dico che cosa hanno mangiato che cosa hanno scelto ma c'è nel fracaneo di ciò che hanno mangiato questi cristiani ma poi ma si potono mangiare pure lo cerco e credito si potono mangiare a noi non interessa questo che non stiamo stintendo fatto cioè ce n'è uno in particolare che ogni tanto che hanno mangiato quello hanno fracanotto a noi interessa il succo del discorso ragazzi lo volete sapere? volete sapere che cosa si sono detti? perché fino a poco fa a qualche minuto fa prima che iniziassi il video c'era un ottimismo smisurato a quanto pare molti volevano chiudere in giornata quindi si diceva fino a stamattina che in un paio di giorni no addirittura oggi dopo che si è saputo di questo incontro in giornata si vuole finalmente chiudere la trattativa più lunga dell'estate e invece ragazzi e invece volete sapere che cosa è successo? o nulla di fatto? ragazzi ancora una volta la fumata è grigia fumata grigia per Charles de Kettler il Milan vuole Charles de Kettler de Kettler vuole solo il Milan il Bruges si è reso conto che ormai il giocatore vuole il Milan quindi non firmerebbe per altri club ragazzi non si riesce a trovare la quadra a quanto pare a quanto pare le due società sono ferme sulle loro posizioni il Milan quanto offre? 32 32 non ci smuoviamo da questa cifra noi quanto vogliamo 35 35 non ci smuoviamo da questa cifra ragazzi questo passo il campionato Gmens il campionato Schock il campionato Farnes e noi stiamo ancora ad aspettare Charles de Kettler ragazzi sta diventando non sta diventando ragazzi non sta diventando guardate ragazzi sono diventate così sono diventate così ragazzi ad axena da bandet sono abbattate fino a 2 non riesco che io manca a tornare da l'acqua da tabasce da tabasce da ghevono che ghevono sono abbattate ad axena da bandet navi ti abbattate le navi ti abbattate basta 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 che sta sto basta dite di no no avas basta ava non lo volete prendere più non si va avanti non si va avanti stà trattati chiudiamo stà trattati non ne possiamo più ma anche voi mettetevi nei nostri panni che ogni giorno dobbiamo cercare di raccontarvi delle novità in questa situazione qua ragazzi ma di che cosa vogliamo parlare di che novità dobbiamo parlare è sconvolgente è sconvolgente è sconvolgente poi io voglio sapere una cosa l'alternativa a Zier l'alternativa a Zier intanto a questo punto chiamiamo a Niu a Zier magari dai anche l'impressione al Brugge di dire guarda che noi questo l'abbiamo preso quindi o lo fai alle nostre cifre oppure veramente perché poi il giocatore se veramente ha un patto col Milan a dire io o vado là o vado là e non firmo da nessuna parte tu il giocatore te lo tieni scontento quindi magari portiamocelo a casa Zier che comunque ha un ruolo differente da De Kettler che comunque potremmo portare a casa in prestito a quanto pare perché pur ma stai in altri sei mesi per farlo trattati quindi portiamoci avanti con le cose non è che due cose contemporaneamente non si possono fare non si possono fare due cose contemporaneamente ma io non lo so ragazzi veramente è una cosa sta diventando inaccettabile questa situazione qua inaccettabile poi nel frattempo in uscita stiamo lavorando Paolo Maldini anzi scusate suo figlio Daniel Maldini ha diciamo ha accettato la destinazione Spezia per andare a giocare in prestito quindi Daniel Maldini andrà a giocare seguirà Caldara e giocheranno entrambi in prestito nello Spezia la squadra si sta man mano diciamo snellendo un po' ma qui a fuori di snellire ragazzi faccio fatica a capire qua stiamo diventando sempre di meno ragazzi ma siamo sicuri che dobbiamo fare anche mercato in entrata o faremo solamente mercato in uscita anche perché poi per queste benedette liste che ci dite sempre eccetera ma queste liste che poi dobbiamo presentare ma i giocatori italiani che dobbiamo inserire dove stanno dovremmo fare anche mercato in entrata per portare a casa qualche italiano oppure lo sostituiremo solo ed esclusivamente mettendo qualcuno della primavera giusto perché anche questo poi diventa importante vorremmo capire anche questa situazione qua ogni tanto una volta fatela un'intervistina una volta gli è morto perché noi siamo rimasti a quell'intervista lì di quando abbiamo vinto lo scudetto dopo 3-4 giorni Paolo Maldini fece la sua intervista poi abbiamo sentito Gerry Cardinale Cardinale scomparso dai radar totalmente Nanzasepe in questo momento non si sa a che chiesa è andato a bussare e questa è la situazione non sappiamo niente cioè ragazzi noi non sentiamo i giornalai ma noi non sentiamo i giornalai se non ascoltiamo nella voce dei nostri protagonisti a chi dobbiamo sentire una macchina che è a Sins ci sono tante cose veramente però però ragazzi c'è un Milan che fa mercato in entrata in maniera spaventosa ogni giorno si ufficializzano i giocatori ma è una cosa impressionante Sto parlando del calcio del Milan femminile il Milan femminile ma diciamo se devo andare a leggere tutti i nomi ho bisogno almeno di 6-7 giorni per tutti i nomi in entrata che sono arrivati evidentemente forse si vuole puntare sul calcio femminile non lo so a questo punto domandiamo un prestito dallo femmino vediamo c'è una donna qualche io a minza camba a tre quartisti ragazzi ma quanto costano il mercato giusto per capire ma il mercato diciamo del calcio femminile com'è quanto viene a costare diciamo l'acquisto di questo quest'altro giocatrice giusto per capire per rendermi conto perché sai com'è non è che facciamo la femminile ma non lo pensiamo proprio giusto per eh ma non vabbè la femminile calcio femminile assolutamente agar bait piacevole tutto quello che vogliamo eh però vorrei capire diciamo si fa mercato in entrata che non ti capisci invece da da che davanti invece escono solamente i giocatori cioè giusto per capire stufatti eh che altro dire ragazzi eh io mi aspettavo speravo speravo oggi succedesse qualcosa di importante sinceramente oggi pensavo fosse la giornata giusta ma evidentemente non è oggi ragazzi sarà quella di domani sarà quella di domani ragazzi tranquilli che domani domani succede sicuramente qualcosa il mercato del Milan il giorno del mercato del Milan per portare Charles de Ketterer al Milan è domani ragazzi nel frattempo scaricate no scaricare scusate ehm che cosa volevo dire iscrivetevi al canale del Briga perché molti di voi magari non l'hanno ancora fatto fatelo cliccate sulla campanellina e spingete tutte perché ogni qualvolta c'è un nuovo video verrete avvisati e non è mai una cosa brutta poi nel caso non lo volete vedere non lo vedete nel caso lo volete vedere più tardi lo lasciate lì me morde stasera me lo vedo oggi pomeriggio me lo vedo me lo vedo adesso insomma è importante saperlo soprattutto nelle live dove tu devi essere avvisato in live insomma direttamente perché hai bisogno diciamo di essere subito avvisato poi ragazzi lasciate un like anche quello è assolutamente gratuito se invece volete sostenere il canale del Briga abbonatevi oppure cliccate sul tasto grazie e donate quando vi pare piace sotto nei commenti in ogni video ragazzi che altro dirvi vi voglio bene vi saluto vi auguro una buona giornata vi voglio bene forza lotte vincerai non ti lasceremo mai ciao a tutti